Il 36enne di Termoli è arrestato le scorse ore dai carabinieri del nucleo investigativo di Campobasso in collaborazione con i militari della sezione operativa di Termoli per detenzione di droga e fine di spaccio è tornato a casa, agli arresti domiciliari. Il GIP del Tribunale di Larino ha convalidato l'arresto, ma per lui non si sono aperte le porte del carcere. 27 giorni fa da manettarlo ci avevano pensato gli uomini della squadra mobile del capoluogo. Sessoreato, spaccio e con lui c'erano le stesse persone poi anche denunciate dai carabinieri nelle ultime ore. In quell'occasione il giudice per le indagini preliminari dispose i domiciliari, ma il 36enne, stando agli atti relazionati dagli uomini dell'arma, avrebbe continuato a spacciare, tanto che nel fine settimana sono nuovamente intervenuti presso la sua abitazione per portarlo nel carcere di Larino. E sono stati denunciati, dicevamo, anche i tre soggetti che erano con lui gli stessi di un mese fa. Stesse dinamiche dunque stesse faccio e stesso reato, il GIP, pur convalidando l'arresto, ha rispedito a casa il 36enne in attesa di giudizio. A casa questo aveva 50 grammi di cocaina, eroina e hashish, oltre 1000 euro in contanti e un bilancino di precisione. Invece, il 24 settembre scorso, quando ad intervenire fu la squadra mobile, durante la perquisizione furono sequestrati 14 involucri in alluminio, con circa 31 grammi di marijuana, celati in una scatola da tè, 13 involucri in plastica per un totale di 10 grammi di eroina e un bilancino di precisione, oltre a vario materiale per il confezionamento della droga. Ammonimento della Cassazione, invece, al Tribunale del Riesame di Campobasso, in merito alla posizione di un indagato nell'ambito di operazione lungomare. I carabinieri del nucleo investigativo del capoluogo hanno eseguito una misura cautelare dell'obbligo di dimora a carico dell'uomo. La misura è scaturita dopo la scelta del procuratore di ricorrere in Cassazione a causa del precedente dignego del Riesame rispetto alle misure chieste. La Suprema Corte, accogliendo l'appello del procuratore della Repubblica di Campobasso, ha annullato l'ordinanza emessa il 23 novembre 2018, che aveva rimesso in libertà l'indagato e ordinato quindi l'obbligo di dimora. Grazie a tutti.